Appuntamento speciale con il magazine, con voi come sempre Marinella Pedri, ma andiamo a parlare di qualcosa di molto molto particolare, di una spedizione alpinistica in uno dei monti più alti del mondo. Siamo onorati di essere la radio ufficiale di questa spedizione, seguiremo tutti i vari eventi, tutte le varie tappe attraverso il nostro sito ufficiale www.radionostalgia.fm, ma la spedizione ci sarà tra settembre e ottobre. E allora vogliamo sapere un po' di più di cosa si tratta, per cui nel corso di questo appuntamento e anche di altri che arriveranno, io attraverso gli ospiti che mi verranno a trovare, voglio per me e per voi riuscire a capire un po' di informazioni curiose, interessanti e anche tecniche, chiaramente, di questa spedizione alpinistica dei Liguri Apuani Manaslu 2013. Tra gli alpinisti in primis Fabrizio Molignoni perché è il capo spedizione. Ben trovato Fabrizio, ciao! Sì, ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, raccontaci tutto. Innanzitutto, che cosa significa essere capo di una spedizione? Ma significa avere certamente delle incombenze in più degli altri. Ecco, quello del capo. È il minimo. Noi siamo un team, abbiamo messo insieme una squadra che è una squadra equilibrata, direi tecnicamente e anche umanamente ritengo molto valida. Il nucleo nasce un po' dalla, quindi il nome stesso che ci siamo dati, spedizione alpinistica dei Liguri Apuani, sta a significare che abbiamo l'origine tra Massa, Carrara e Spezza, l'unigiana storica, quindi l'idea di base era consorziare le forze migliori, le forze alpinistiche che stanno alla base delle Alpi Apuane. Questo era un progetto che è partito due anni fa e noi su questo abbiamo lavorato, abbiamo avuto delle felici intrusioni di due o tre elementi esterni e alla fine abbiamo messo in piedi questa squadra di dieci elementi. Io non sono tra i più giovani, quindi ho da ritenere che il fatto che mi abbiano chiesto di svolgere questo ruolo sia anche dovuto a quello, però a parte questo ho accumulato una certa esperienza e quindi motivosi a questo. Certo. Allora, in cosa consiste questa spedizione alpinistica, lo ripeto, dei Liguri Apuani Manaslu 2013? È la conquista della Montagna dello Spirito, perché così viene chiamato il Manaslu in Nepal, che raggiunge gli 8163 metri. Ed è l'ottavo monte. Sì, è l'ottava vetta più alta della terra, ma il motivo trainante non è stato questo. Noi siamo una squadra mista di professionisti e appassionati, quindi non professionisti. Abbiamo tutti delle precedenti esperienze di spedizioni extraeuropee, 2.000, 6.000, anche 7.000 metri. Nessuno di noi però è mai stato all'8.000. Dunque è una prima volta per tutti. È anche naturalmente legato un po' alle aspirazioni personali. Uno cerca sempre di salire, in questo caso il verbo è più che appropriato. E naturalmente, perché gli 8.000 sono 14, le montagne superiori a 8.000 metri sono 14, sono più o meno equamente divise tra il Pakistan e il Nepal, noi abbiamo scelto il Manaslu per più di un motivo. Il primo perché è una montagna isolata e ancora poco frequentata, soprattutto nell'approccio, nel trekking che occorre fare per arrivare alla base della montagna. L'altro motivo è proprio questo, che impone arrivare al campo base di partire molto bassi, quindi abbiamo creduto che fosse favorevole per l'acclimatazione partire bassi, avere un approccio anche di alcuni lunghi giorni per raggiungere il campo base. Il terzo motivo è che la stagione autunnale ci avrebbe consentito di sfruttare la nostra estate per l'allenamento sulle Alpi e così è stato fatto. Benissimo. Io so, fra l'altro, che su questa montagna c'è anche un parco nazionale. Sì, il trekking che noi svolgeremo, che è il periplo del Manaslu, è tutto all'interno del Manaslu Natural Park, è un parco nazionale, protetto, dove occorre avere un permesso d'ingresso, anche i semplici escursionisti, ed è un trekking molto affascinante perché, come dicevo prima, parte da 8-900 metri, arriva alla sua massima quota che è 5200, l'Archia Pass, per poi ridiscendere ai 1000 metri della zona est. I primi giorni sono in comune con il famoso giro della Napurna, poi si stacca dal percorso della Napurna per girare a oriente e in pratica effettua un ferro di cavallo intorno alla montagna. Ed è un trekking che ha la particolarità di essere ancora molto poco frequentato, dunque non ci sono alloggiamenti, non ci sono loggio, non ci sono strutture, è tutto tendato, dura 18 giorni e noi lo svolgeremo metà all'andata e metà al ritorno dopo la montagna. Ebbè certo, perché voi invece che terminarlo subito il ferro di cavallo, vi fermatevi. A metà ci fermeremo per raggiungere il campo base. Esatto, il campo base. Dopodiché da lì in varie tappe, sono 4 se non sbaglio? Sì, noi appunto avremo 10 giorni di approccio per arrivare al campo base. Il campo base è situato a 4800-4850 metri, è tra tutti gli 8000 il più basso dei campi base degli 8000, che significa che la distanza tra campo base e vetta è la più elevata. Questo comporta il fare 4 campi alti, l'apporre 4 campi alti e naturalmente questo significa dover avere un certo numero di giorni per approntare 4 campi alti e tentare la vetta. Noi avremo a disposizione 24 giorni per questo. Sì, perché in tutto dura 45, però c'è da tener conto della prima parte dei giorni per approcciare il campo base e la parte per uscire. Benissimo, parleremo anche di cose che girano un po' intorno a questa spedizione nei prossimi appuntamenti e con i prossimi ospiti. Io vorrei ricordare, proprio a titolo istituzionale, che questa spedizione è organizzata dal consorzio Il Cigno, dalle sezioni del CAI della provincia della Spezia e della provincia di Massa Carrara, in collaborazione con l'esercito italiano nono reggimento, colonnello Moschini. Moschini, sì, è il reparto incursori dell'esercito di Livorno. Benissimo, e il corpo forestale dello Stato. La spedizione si terrà a settembre-ottobre, come abbiamo già detto, in concomitanza con il 150esimo anniversario del Club Alpino Italiano. Sì, il 2013 è appunto il 150esimo, noi abbiamo creduto che fosse una cosa interessante festeggiarlo anche con un'esperienza alpinistica di livello, quindi abbiamo lavorato per questo e si è creata questa sinergia che ricordavi adesso con l'esercito e col corpo forestale dello Stato e insieme anche col Consorzio Il Cigno, che istituzionalmente si occupa delle tradizioni e degli studi dell'antico popolo dei Liguri-Apuani. Dunque si è assunto felicemente l'onere organizzativo di questa esperienza, per cui, dicevo, questa sinergia è stata fin dall'inizio la cosa, come dire, che ci ha in qualche misura distinti e che non manchiamo mai di sottolineare perché ritengo sia una cosa originale e interessante. E allora chiudiamo ricordando che questa è la prima volta per un team di alpinisti Liguri-Apuani che tenteranno appunto di raggiungere una cima superiore agli 8.000 metri. Protagonisti di questa impresa sono alcuni dei migliori alpinisti del territorio Ligure e Apuano che uniranno le proprie forze per affrontare questa impegnativa ascesa alla vetta himalayana in stile alpino. E qui metto un punto esclamativo e spiegheremo nel prossimo appuntamento, perché ora non abbiamo veramente più tempo, che cosa significa in stile alpino. Molto interessante anche questo particolare, bisogna dirlo. Allora Fabrizio, io ti ringrazio, tu hai l'onere di essere il capo spedizione, e quindi mi raccomando fai bene il capo, lavora bene, coordina e poi magari ci risentiamo prima della partenza. Benissimo, grazie. Grazie, grazie. Prossima settimana incontreremo altri personaggi di questa fantastica spedizione alpinistica. Se per caso avete voglia di conoscerli personalmente, voglio ricordarvi che martedì prossimo, 27 agosto, alle 18.30, a Licciana Nardi, presso il Castello, ci sarà un incontro con il pubblico di tutto l'entourage che partirà per questa particolare spedizione per la conquista di questa vetta. Adesso ci fermiamo, ci ritroveremo ancora con il magazine alle 18.30, per parlare invece di questa spedizione, martedì prossimo e anche venerdì, poco prima proprio della partenza.